Occorre avviare una riflessione di tipo pastorale da parte della comunità cristiana sulla giustizia riparativa e l'ordinamento penitenziario italiano. Lo ha affermato Don Daniele Simonazzi, cappellano da 27 anni dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e responsabile dei cappellani carcerari dell'Emilia Romagna e delle Marche nell'ultimo appuntamento sabato 3 marzo al centro pastorale diocesano della Scuola di Pace. Nell'incontro introdotto da Luciano Benini, responsabile della Scuola di Pace, da Giorgio Magnanelli, volontario nella casa di reclusione di Fossombrone Don Simonazzi si è soffermato sul tema della giustizia riabilitativa e del rapporto tra comunità ecclesiale e carcere partendo da diversi brani biblici, in particolare dagli Atti degli Apostoli al capitolo 12 in cui si racconta dell'apostolo Pietro in carcere. Non si può pensare alla giustizia riabilitativa se non si parte dalle vittime. Dalla mia esperienza negli istituti penitenziari posso affermare che occorre stare attente a non fare vittime le persone che hanno già fatto vittime ma è necessario avere più cura della vita, delle relazioni e degli spazi del carcere mettendo al centro di tutto la parola di Dio e il dialogo.